L'idea di lavorare con degli strumenti inventati mi ha colpito subito. Ognuno di questi strumenti è stato realizzato a partire da un elemento che rappresenta un progetto che la Fondazione Lavazza ha realizzato in Africa, Sud America e Asia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Quale mi interessa davvero è entrare in contatto con altre culture, e quindi con altri sistemi di pensiero. In questo caso usare degli elementi così naturali, grezzi, per me è un po' come andare alle origini ancestrali della musica. La Fondazione Lavazza ha realizzato a partire di QTSS Per me lo scopo del viaggio è andare oltre quello che già conosco, confrontarti con altre culture ti dà un altro punto di vista, sul mondo che ti circonda e su te stesso. La Fondazione Lavazza ha realizzato a partire di QTSS